È arrivato all'undicesima pubblicazione Michele Gentile, il suo ultimo libro si intitola Il Dono con la prefazione di Gianni Maritati e la postfazione di Francesca Moroso. Io con un piccolo, semplice e simpatico artificio letterario praticamente ho prodotto un libro nel quale poi in realtà c'è un romanzo breve e poi una vera e propria silloge di poesie. L'esperimento è piaciuto perché il lettore così riesce praticamente a leggere prosa e poesia in uno stesso volume. Il Dono, perché questo titolo? Qual è la storia? Qual è il contenuto? Allora, io amo definire Il Dono come una vera storia di fantasia. È una favola con dei contorni molto reali. In realtà ho voluto fare un atto d'amore nei confronti della poesia. La poesia per me è vita. Ora, in questo contesto lo immagino come un dono, sia per chi comunque ha la felicità e la possibilità di scrivere poesia, ma anche perché la poesia comunque oltre che essere uno strumento artistico è anche uno strumento di condivisione, di unione. E intorno a questo concetto basilare poi si svolge la storia di questo bambino, Giuseppino, che perde la mamma praticamente del ragazzino e vive in questo borgo marinaresco del nostro splendido meridione, un probabile borgo marinaresco perché anche questo, diciamo, è inventato, si chiama Rocca Solenne. E si snodano appunto personaggi e situazioni che aiutano Giuseppino a crescere fino all'incontro con quello che diventerà il suo miglior amico, Amir, un ragazzo che viene dall'Africa, e la loro amicizia sarà basata sulla natura e sulla poesia. Un libro che non è soltanto un esercizio letterario ma ha anche una nobile finalità. Sì, assolutamente. Lo considero un libro solitale perché, e qui devo ringraziare assolutamente il mio editore, la Masciulli Edizioni, Alessio Masciulli, perché l'intero ricavato delle vendite di questo volume andrà praticamente a sostenere le attività di una onlus, della onlus Chiara e Francesco di Torbaianica, che è una struttura, una casa famiglia che ospita bambini che hanno subito delle violenze. E dobbiamo infine concludere dicendo che è in piedi un progetto per fare del contenuto del libro, una rappresentazione teatrale. Da Ostia per Canale 10, Alberto D'Abbini.